La scomparsa di Gianfranco Vialli, padre dell'ex calciatore allenatore Gianluca Vialli, ha suscitato grande commozione nel mondo dello sport. Gianfranco Vialli, figura riservata ma molto amata e rispettata, era un imprenditore di successo e un punto di riferimento per la sua famiglia, accompagnando e sostenendo il figlio durante la sua carriera e nei momenti difficili. La notizia della morte di Gianfranco Vialli ha scatenato numerosi messaggi di affetto e vicinanza a Gianluca Vialli, che è stimato per il suo impegno come dirigente e assistente della nazionale italiana. La vicinanza del mondo del calcio con messaggi provenienti da club e colleghi testimonia quanto Gianluca si è apprezzato non solo per le sue doti sportive, ma anche per la sua umanità. La perdita di Gianfranco arriva in un momento delicato per la famiglia Vialli, già provata dalla malattia di Gianluca. In questo difficile momento Gianluca e la sua famiglia possono contare sull'affetto dei tifosi e sull'abbraccio virtuale del mondo del calcio. Nei prossimi giorni si terranno i funerali di Gianfranco Vialli e si prevede una grande partecipazione di persone vicine alla famiglia e di appassionati di calcio che vorranno rendere omaggio a una figura simbolo di forza e discrezione. La città di Cremona, profondamente legata alla famiglia Vialli, parteciperà con rispetto e affetto a questa tifosi.